Buon pomeriggio da Riccardo Mancini, siamo a Grasau, Alta Baviera, tra poco, Lazio e Genoa, 17 giorni dai loro primi impegni in campionato per la Lazio, quinta amichevole di questo precampionato, con una squadra che ha come obiettivo quello di ritornare subito nei piani alti. Yuzai, da un impulso da quella parte, FT gli ruba il pallone, dentro Ekuban, Koda, anche Gudmundsson, palla per Koda, finta, c'è la sul destro Koda! Che giocata di Massimo Koda, che sblocca dopo 4 minuti, controllo di suola, destro incrociare, batte Maximiliano e porta avanti il Genoa. Basic, Cataldi ha un po' di libertà, Milinkovic, gran palla profonda per Immobile, che anche da terra, anche cadendo, fa gol, 1-1, gran giocata di Milinkovic, gran giocata di Ciro Immobile, sempre lui, Lazio che pareggia. Frendrup, offre profondo per il taglio di Ekuban, lo segue Casale, dentro Koda, cross di Ekuban per Koda, raddoppia il Genoa, ancora Massimo Koda, gran palla di Ekuban e Koda deve soltanto spingerla dentro, 2-1. Immobile, molto lontano dall'aria, le dà uno sguardo, c'è Dragosini, poi Felipe Anderson, destro di prima intenzione ma palla fuori. Batte Payaz, scelto sempre il secondo, Koda si stacca e prova a calciare al volo, Maximiliano vola. Rientra Ekuban, trovato Koda al limite, occhio a Koda, che infila ancora una volta la porta di Maximiliano, tripletta per Massimo Koda, al 51esimo e 3-1 per il Genoa, oggi scatenato Massimo Koda. Paiaz, ancora spazio per Koda che può andare verso Maximiliano, Koda metta rimorchio per Ekuban, chiusura quasi disperata di Kamenovic, rigore per il Genoa, fallo di mano di Kamenovic. Ma Gudmundsson contro Maximiliano, 4-1 per il Genoa, spiazzato Maximiliano, gol di Gudmundsson. Altro spazio per Koda, 1-1 con Maximiliano, alza troppo il pallone Massimo Koda, ma Lazio non c'è. Lancio di Koda per Yeboah, che va in campo aperto, può sfidare Kamenovic, uno contro uno saltato, poi dentro Yeboah, forte sul secondo e non arriva il 5-1 di Bani. Badel, alza ancora palla, sempre in zona Iaghello, troppo difficoltoso ma riuscito, colpetto, 1-2 che si chiude, Melegoni da Iaghello, doppio passo a sinistro, Adam Onis para a terra. Marco Santonio vuole penetrare, poi si appoggia ancora largo, da Raul Moro, Bertini chiede l'1-2 a Cancellieri, gira col destro Paraschemper. Lazio scoperta, Kamenovic pensa solo ad andare in mezzo, Yeboah allora punta la porta, ora esce Kamenovic, Gila, poi palla sul secondo palo, c'è Adam Onis che deve mettere le manone sul sinistro di Sabelli. Occhio al Genoa, Lipani con l'esterno dietro, c'è la parata ancora di Adam Onis. Vince il Genoa che batte la Lazio 4-1 con tripletta di Massimo Coda. Grazie.